Sindaco Carlo Masci, un progetto esecutivo, adesso si andrà a gara e poi da settembre si parte per il restyling del cimitero di Colle Madonna. Sì, devo dire che di progetti ne stiamo approvando tanti e tante opere stanno partendo, però questo progetto e questa opera mi riempiono di soddisfazione perché? Perché parliamo di defunti e l'attenzione ai defunti deve essere massima. Parliamo del cimitero di Colle Madonna, purtroppo da troppo tempo le sepolture non avvengono in quel cimitero perché non ci sono più loculi e poi c'è anche una zona interdetta perché è interessata da una frana, con questi 570 mila euro noi otteniamo tre obiettivi. Il risanamento della frana e quindi mettiamo in sicurezza la zona del cimitero che era franata, recuperiamo i camminamenti che erano interessati dalla frana e quindi permettiamo l'accesso in zone che sono interdette fino ad oggi e poi realizziamo 72 loculi nuovi. Quindi finalmente il cimitero di Colle Madonna torna alla sua funzione e potremo utilizzarlo per le sepolture. I tempi quali sono? Ad agosto ci sarà la gara, a settembre realisticamente partiranno i lavori, credo entro fine settembre, quattro mesi per i lavori, quindi a inizio anno avremo il completamento di questi lavori. Però l'obiettivo che noi vogliamo cogliere è che per il primo novembre quei camminamenti da troppo tempo interdetti possano essere utilizzati in modo che le persone che fino ad oggi hanno potuto portare un fiore ai propri cari in alcune cappelle gentilizie di una zona specifica possano invece tornare a farlo. Quindi credo che questa operazione sia un'operazione non soltanto di opere pubbliche, ma anche un'operazione sociale e di sentimento ed era giusto farlo, il cimitero per troppo tempo è stato trascurato. Oggi con questi 570 mila euro, una somma importante, torniamo a occuparci in maniera concreta sia del cimitero, sia delle sepolture e sia della frana perché eliminiamo il rischio.